E' iniziato il conto alla rovescia per la celebrazione della finalissima della quarta edizione del Festival Italia Canta Napoli Eno 2018. Il prossimo mercoledì 2 maggio, infatti, a partire dalle ore 18.30, inizierà la registrazione della Kermes presso gli studi della emittente Italia Mia, ubicati in prossimità dell'uscita autostradale di Casetta Sud. La serata sarà presentata dalla splendida coppia di presentatori televisivi composta da Ettore Dimitrofi Flora Fedrado. Ricca di nomi del jazz e anche la giuria, con cantanti, attori, musicisti, giornalisti, modelli e modelli. A presiederla, sarà il maestro Doco Terris. La segreteria organizzativa, anche alla luce delle numerose adesioni ottenute chi in cui, tiene a far sapere che, per assistere al Festival, bisognerà prenotare i posti, contattando la responsabile organizzativa Maria Guerrera o il direttore artistico Pino Ricci. Dunque, l'appuntamento è per il prossimo 2 maggio. L'appuntamento è per il prossimo 3 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 maggio.